Sono Marco Dietri e in questa presentazione vi parlerò di questo dispositivo Huawei che è un modem Gipon e di come l'ho studiato per connettermici e per recuperare i dati dell'interfaccia ottica di potenza e di temperatura. Se invece si entra con quelle credenziali Telecom Admin, Admin Telecom, che non si possono modificare in nessun modo dell'interfaccia del modem, attenzione questo è carino, si può scaricare il file con la configurazione dell'oggetto. Questo file però è cifrato, che è scomodo, d'altra parte è cifrato con una chiave, un algoritmo che sembra che siano uguali per più o meno tutti i CPE di Huawei. Ok, online si trova un eseguibile che permette di decifrarlo, non sono riuscito a trovare i sorgenti, se qualcuno ci riesce mi faccia sapere perché sono curioso, comunque si trova un eseguibile che permette facilmente di decodificare la configurazione, dopodiché si imposta, si attiva l'accesso via Telnet sull'interfaccia interna, SSH non va, la si ricifra con lo stesso programma e la si carica nell'interfaccia. A quel punto si può entrare via Telnet ed è solo una questione di Perl. Ho scritto un programmino che fa login via Telnet sulla macchina, invia il comando display optic che ci dà i parametri che avevamo già visto tramite l'interfaccia web e poi ci fa cose, grafici, eccetera. Una velocissima introduzione alle comunicazioni ottiche, il decibel è il rapporto di due valori di una certa quantità, qualsiasi, in genere si usa per la potenza di un segnale perché è comodo, alla potenza di un segnale tipicamente diminuisce col quadrato della distanza ed è un modo comodo per fare conti. In comunicazioni ottiche e in elettronica in generale il decibel millivatt è un'unità molto usata e quest'unità rappresenta il numero di decibel rispetto a una potenza iniziale di un millivatt. Lì ci sono alcuni esempi, 3 decibel significa due volte il segnale di riferimento, meno 3 la metà del segnale di riferimento, meno 10 sono un decimo, meno 20 sono un centesimo. In genere si parla di segnali bassi, quando si tratta di comunicazioni ottiche un segnale di diversi decibel credo che faccia i buchi nel muro. Dopo che avevo questi parametri ho pensato, la cosa ovvia, ci faccio dei grafici. Ho provato, ok, gnuplot. Cosa si vede? Abbiamo lì in alto la potenza trasmissiva, oscilla sempre tra due valori, non è minimamente interessante. Questi grafici li avevo fatti l'anno scorso, non li ho aggiornati perché hanno una scala più breve, sono più comodi da guardare. Vi assicuro che la stessa tendenza, le stesse cose sono continuate ancora per l'anno successivo fino ad ora. Questo era proprio il momento in cui ho iniziato a raccogliere i dati e vedete che la temperatura, che in casa mia è stagionale, da maggio in poi sale, 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 luglio e agosto è abbastanza alta. Per la cronaca quei picchi periodici verso il basso sono uno alla settimana quando la colfa apre le finestre mentre pulisce. Si vedono proprio aumentando un po' la scala nel grafico. E vedete, si vede anche abbastanza ad occhio che la potenza elettrica ricevuta, che qui è misurata in decibel millivatt meno 17, che è un valore del tutto ragionevole in questo contesto, varia, non enormemente, però vedete, temperatura sale, questo scende, temperatura riscende, questo risale, perché? Domanda interessante, ho fatto tutta una serie di ipotesi, qui lo vedete su una scala un po' più breve, solo estiva, e si vede proprio qui c'è uno scalino, lì c'è uno scalino e così via. Allora, ho fatto un po' di ipotesi, allora, non può dipendere dalla temperatura del laser nella centrale telecom, perché certamente è climatizzata, almeno. È ragionevole pensare che sia climatizzata in modo adeguato, sono improbabili variazioni così grosse. E comunque abbiamo visto che ci sono variazioni rispetto alla temperatura di casa mia. Non dipende dall'effetto della temperatura sulla fibra ottica, mi sono informato, ho trovato alcuni paper che mostrano che è del tutto trascurabile, l'attenuazione di una fibra non aumenta con la temperatura che è apprezzabile dagli umani. L'ipotesi che ho fatto è che quindi il componente che riceve il segnale sia influenzato dalla temperatura ambiente. Se qualcuno di voi ha esperienze di ottica, di elettronica, parliamone perché sono curioso. Qui si può vedere tra meno 18 e meno 17 dBm come varia, vedete, varia circa mezzo dBm, che non è una variazione enorme per un segnale ottico, però si può vedere e si può sempre correlare alla temperatura. Rimane da spiegare esattamente i motivi fisici e tecnologici del perché. Sì, che è correlata alla temperatura, diciamo, l'abbiamo stabilito, che è influenzata dalla temperatura ambiente, ne sono piuttosto convinto. Se avete idea, mi interessa parlarne. Alcune slide bonus. Ho deciso che mi pareva brutto comprare un router tipi Link, quelle cose lì, non mi sembrava al caso di mettermelo in casa e sono stato, effettivamente sono un po' inattivo ma sono ancora il maintainer del pacchetto PPP di Debian che avevo smesso di usare a un certo punto quando serviva un modem a DSL, quel lavoro lo faceva già lui. Ho deciso, attacco il mio convertitore Gipon direttamente alla mia rete di casa. Sulla mia rete di casa ho un server, che non pensate sia chissà cosa, è una QB board modello 1, una schedina grossa così, ARM, estremamente poco potente, che però mi fa da server NFS di casa, insomma, e mi fa perfettamente da router, quindi posso gestire il mio router con i p-tables e gli soliti strumenti senza dover bestemmiare contro qualche cinese che ha fatto un'interfaccia scomoda e che non fa quello che vorrei. Questo, quindi, se avete una qualche familiarità con Debian, vedete che questa è la configurazione di FAPDAWN. Ho creato questa interfaccia ETH9, non esiste, la macchina ha una sola porta di rete, ma ho creato un'interfaccia di tipo MACVLAN. È una seconda interfaccia virtuale, che usa la stessa porta fisica, ma ha un diverso MAC address. Io con quella lì parlo PPP over Ethernet con il convertitore. Vedete, pre-up la crea, post-down la cancella, quando io metto up e down questa interfaccia ETH9. In più, io ho anche assegnato un IP, perché dall'altro lato c'è punto 1, io mi sono preso punto 2 su quell'interfaccia, così posso anche parlare con l'oggetto NAT, in modo che non importa da quale IP di casa ci arrivo, venga fatto source NAT su un altro IP nella stessa rete, quindi non ho dovuto toccare in nessun altro modo la configurazione dell'oggetto Huawei stesso, per permettergli di comunicare con l'esterno, modifiche minime. Qui vi presento il passo successivo, come gestire PPP. Siamo abituati a usare degli script che sono francamente indecenti al giorno d'oggi, e ci ho lavorato parecchio, quindi lo dico con una certa cognizione di causa, sarebbe l'ora di farne a meno. Ho creato una unit per SystemD, che non è esattamente una unit che gestisce la rete, però dandogli le dipendenze giuste funziona perfettamente allo stesso modo. Quando questo sistema è in produzione da più di un anno non mi ha mai dato il minimo fastidio, quando questa unit viene attivata, attiva PPP con il proprio nome, quella chiocciola lì significa che posso fare PPPD, chiocciola il nome del provider che ho usato nella configurazione di PPP, e quindi ne posso gestire anche N con la stessa unit. Ah, grazie. Quando si ferma la unit, lui uccide PPP, reload, eccetera. Se per qualche motivo PPP muore, viene fatto ripartire, e poi ci si potrebbe lavorare ancora, avevo iniziato a usare le solite funzioni standard di SystemD per isolare i processi e togliergli i privilegi. Penso che la metterò nel pacchetto Debian di PPPD, a breve, spero di trovare il tempo velocemente, in modo da avere un modo più sensato di gestire le connessioni. A questo punto, enable, start, si possono fare tutte le cose solite che si possono fare con le unit di SystemD, questa è parametrizzata, quindi se ne possono usare anche più di una, se avete più connessioni alla vostra rete, ci sono i log, basta guardare i log della unit, e potete vedere PPP cosa ha detto in quel periodo. Insomma, tutto normale, ho sfruttato i soliti meccanismi per modernizzare come gestire PPPD. Questo è tutto, le slide sono online, se qualcuno... sono online anche i sorgenti di tutto il Perl che ho scritto, che parla con il modem, li trovate nelle mie pagine su GitHub, se vi interessa approfondire, o se no chiedete, e se avete domande sono a disposizione. Sì, 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 torno. Ci sono, intanto vediamo, ci sono domande? Domande da parte vostra? Ok. Allora, no, no, ci sono dei motivi, poi ciascuno ha le proprie opinioni, personalmente non gestisco una rete con milioni di clienti, quindi le mie valgono quello che valgono. Piace ai provider di certe dimensioni, PPP piace molto, perché funziona esattamente come funzionavano i modem vent'anni fa. c'è una connessione, si può accendere, spegnere il servizio al cliente, semplicemente intervenendo su Radius, che gli permette di autenticarsi, e quindi possono continuare a fare le cose come hanno sempre fatto. D'altra parte ci sono degli svantaggi, con le linee a queste velocità servono un mucchio di risorse, in particolare nei loro apparati per incapsulare e decapsulare da PPPOE. non è niente di ingestibile, però sono sempre soldi usati. Questo gli permette effettivamente un vantaggio che è importante, che è la diagnostica, avere un minimo di telemetria verso il cliente. sanno che se il cliente, il computer, il modem del cliente rispondi a PPPOE, c'è qualcosa vagamente connesso e possono anche decidere. Ok, c'è un qualcosa che mi ha risposto, non è un problema fisico sulla linea, quindi non devo mandare un tecnico in strada a vedere se la linea è interrotta o cose del genere. So che il problema, eventualmente in caso del cliente, il problema può anche essere esclusivamente di competenza del cliente e non del provider, se la sessione PPPOE comunque viene stabilita. PPPOE è solo un modo poi di trasportare PPP su un'interfaccia che sembra Ethernet, anche se in realtà non c'entra veramente poco e niente, Gipon con Ethernet, con le ADSL si usava PPPO over ATM, che è lo stesso principio, incapsulo i frame PPP in altri frame del trasporto fisico che ho sotto mano. Ne avevo parlato con persone, insomma, di provider italiani, e avevano delle idee, avevano comunque delle motivazioni, delle argomentazioni a favore di PPPO che, insomma, capisco. Allora, dipende, Gipon non è Ethernet, veramente non c'entra niente con Ethernet, ci passano dei frame Ethernet sopra. Fuori dall'apparato di centrale, di strada che riceve, a cui è connessa la fibra, l'albero Gipon che arriva a casa, c'è Ethernet, ovviamente. Ethernet di qualsiasi genere, infilato in qualsiasi cosa, comunque questi apparati per forza escono su Ethernet. a tanti provider, soprattutto che hanno una rete storica, torna comodo infilare questo traffico in una VLAN e poi se lo portano in giro fin dove è necessario, in una VLAN, in uno pseudowire MPLS, comunque l'idea è questa. Un provider che inizia da zero al giorno d'oggi ha sicuramente meno motivi di usare PPP, perché non ha già tutta un'infrastruttura in casa che può riciclare per il provisioning delle linee, per l'autenticazione, per disconnettere i clienti che hanno cessato il servizio, che sono morosi, cose di questo genere. Quindi effettivamente delle motivazioni a favore di PPP ci sono, sono soprattutto per chi ha sulle spalle già delle reti esistenti che già usavano PPP e quindi continuano a portarselo dietro e fanno fatica a liberarsene. Altre domande? No, allora, l'operatore qui non è Open Fiber strettamente, per la registrazione non ho fatto altri test su altri operatori, ho solo fatto questi esperimenti in casa, l'operatore non è strettamente Open Fiber, a Milano, per tutto un giro strano di accordi preesistenti in certe zone, in certi palazzi, le linee anche di Telecom Italia, le porto Open Fiber, escono dalla scatola marchiata Open Fiber nella cantina, però questo è a livello attivo, è un servizio di Telecom Italia che poi lo manda il mio traffico a quello che è il mio vero provider che mi fornisce la connettività. Altre domande?